Vieni a te! Sono a te! Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Grazie a tutti. Occhi aperti. Ok. 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 Un vagabond. Finito. Andiamo. Sono a terra. Sono a terra. Aspetta. Ti aiuto. Ti aiuto. Prendi. Prendi il comando. Uno. Prendi le balle. Prendi le balle. Un minuto. 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 Uno è andato! Una seccatura in meno. Ci penso io. Mai coperto, grazie. Finito, andiamo! Ok, fatto. Vagabondo! Vagabondo! Siamo tre! Sono ferito! E uno è andato! Bomba armata, occhio! Ne sono pochi, facciamoli fuori! E' a un buon bambino! T'alto! Dalia! Come! E' a un buon bambino! Vagabondo! E' a un buon bambino! La! Bomba piazzata! Ottimo lavoro! Sono finiti! Torniamo alla base! Grazie a tutti!